E si è svolto a Palermo, a Palazzo d'Orlean, sede della Presidenza della Regione, il vertice convocato dal Presidente Nello Musumeci per una ricognizione della condizione strutturale in cui versa la viabilità stradale in Sicilia. Al tavolo si sono seduti i rappresentanti di ANAS e CAS, Consorzio Autostrade Siciliane. A conclusione, Musumeci ha annunciato da subito 1.900 ponti in Sicilia, saranno sotto costante controllo. L'obiettivo è quello di avere una diagnosi seria, credibile, sullo stato di salute delle infrastrutture viarie e ferroviarie in Sicilia. Si è chiaro, la vicenda, la sciagura, la tragedia di Genova ha solo accelerato questo percorso. Già nel mese di febbraio, come qualcuno di voi ricorderà, avevo anticipato che con la protezione civile, con l'assessorato alle infrastrutture, quindi con l'assessore Falcone, stavamo predisponendo una mappa delle strade siciliane particolarmente vulnerabili alle sollecitazioni sismiche. Lavoro per il quale servivano e servono almeno un paio d'anni, mi dicono i tecnici. Adesso invece il tema è legato alla condizione generale delle strade siciliane e delle opere d'arte che sostengono le tratte ferroviarie. Abbiamo il dovere di sapere intanto subito quali sono le opere sulle quali intervenire e poi procedere con una sorta di monitoraggio, monitoraggio periodico naturalmente. Individuate le opere che necessitano di interventi, individueremo le risorse necessarie e i tempi per poter intervenire. Grazie.